Buongiorno, ci troviamo oggi qui a Bergamo a Cologno Alserio da un nostro cliente Fattorini Faust, un investitore privato. Siamo venuti a far visita a questo bellissimo impianto di bambù gigante, guardate la bellezza di queste canne, vi faccio fare una visita all'interno di questo bambusetto, seguitemi! Sono Fausto Fattorini, ci troviamo a Cologno Alserio, provincia di Bergamo, nella mia piantagione privata che ho fatto nel 2017. Il bambù l'ho scelto per un motivo, vedo nel futuro una pianta molto interessante, visto anche la mia esperienza lavorativa nel settore del legno, la vedo, come dicevo, una pianta molto interessante con molti utilizzi. La piantagione è stata fatta aprile del 2017 con 480 piante a etero, concimata e irrigata secondo il protocollo di Olimoso. La coltivazione a tutt'oggi sta andando molto bene, ci sono canne che arrivano addirittura a 7 metri. I diametri delle canne sono dai 3 ai 7 cm di diametro. Viste le prospettive del bambù, nei prossimi mesi si prevede una raccolta di germogli e l'utilizzo delle canne per uso ornamentale. Grazie. 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 Grazie.